al picco la crisi gli fa un baffo, quando l'inter vincerà la champions, oci prosciutto, 45 euro inglese, orgasmo in scatola, 30 euro ma anche meno, la gavina armadio, senza euro, solo per i fan di mengacci, scarpe da tennis, 128 euro, scarpa da bowling, 91 euro diviso 2, scarpa d'anaio, offerta libera, solo se accompagnati dai genitori, spazio in più, da 30 euro a 936 euro, presa in giro, 65 euro e qualcosa, occhiali da sole, 70 euro, poi? Mettila di morire di fame a casa, vieni a sto cacchio di picco, da piccol trovi offerte che non si può spiegare come, all'alba di dopodomani sera, portapagine laggato argento, 4 euro, soffia briciole, 1 euro e 91 euro, baffi da mento, 16,16 euro, prima o poi, occhiali da nuca, 16 euro, giama a forma di vestito, 800 mila euro, Mario Adirato, 80 euro, solo per ieri, frigo sveglia, 1 euro e 91 euro, spogliatore da camera, 129 euro, Così hai più energia, dopo! Il strato di padre Maronno, sono i 4 euro, lo voglio! Anch'io! Spettila di trastullarti a casa, vieni al picco! Arrivo! Al picco, li prezzi, vanno al picco! Eh beh, eh già! Solo dopo la chiusura, porta asciugamani in carne, 21 euro, guanti da piedi, 3 euro, ferma smortie, Utile, 40 euro, solo per questo secolo, riposa mani in plastica, 13 euro in cinella, doppia cose, Svariati euro, risate in scatola, da domani pomeriggio, ma solo a Singapore, la schiera per pc, 1000 euro, sparata in metro, 200 euro, sbremi a cume, Sì, 72 euro, che fuoco ne ha fremuto, eh! Spettila di barricanti a casa, passa da piccoli, Certo, conviene! Da piccoli il risparmio è bello! Sì! Solo durante il tempo delle mele, appuntamento, 14 euro e 5, Tizio Raffredda Brodo, 67 euro, succo d'anatras, 50 euro, Solo per i possessori di Piccol Card, Fontana da interni, 269 euro, Un poccano, destra, ghiaccianotti, 46 euro, Comoda, e da monouso, Un poccano, una forchetta! Quando Gialis rivinceranno, Crociera a cortina, 2 milioni di euro, Tetti abiti portatile, Bello! Frutti di Mario, Un chilo di euro, Mario in mutante, Pochi euro! Eh, ti dimettila di mortificarti a casa! Mortificati al piccolo! Ma no! Mi mortifico! Al piccolo il risparmio si spreca! Quando i bambini fanno O, Mouse senza fili, 2 euro e 5 euro, Bottiglia senza fili, 30 euro, Filo senza fili, Non ha prezzo, Solo alle 16 di notte, Portabraccio in fune, 15 euro, Prezza retrovisore, 3 mila euro, Per chi si gira? Magnetico, Non euro, A chi viene con la nonna? Tavola lavatrice, 20 euro, Quora per consonanti, 12 euro e 6, Premario al prezzo di 2, 300, 200 euro, Smettila di sbrodolarti a casa, Provieni al piccolo, Piccolo, La convenienza è di casa, Solo questo lunedì, Dalle 9 alle 9 e 2 minuti, Sedia a chiocciola, 29 euro, Scassiera scolapiatti, 12 euro, Portapesci a chiocciola, A partire da 10 euro, Tutti i terzi lunedì, Dei mesi di spari, Cavataffi con coltellino svizzero, 2 euro, Coltellino svizzero con cavatatti, 5 euro, Ma come è visto? Il riso falso, 1 euro, Si paga anche il riso falso? Un mercoledì delle ceneri, Dalle 3 alle 4 minuti, Ruba vivande in acciaio, 16 euro, Questo è comodo, Ombrello che non ripara da su, 22 euro, Mario, 1 euro e 99 euro, 1 euro e 99 euro, Smettila di scaccolarti a casa, Vieni al piccolo, Al piccolo ci sono cose che non ci sono, Quando affoggiace il sole, Scarpe a dondolo, 128 euro, Premi d'asti in pelle e ossa, Abbastanza euro, Strisce pedonali portatili, 45 euro, Verso le 5, Ma non è sicuro, Libro verde, Tre quarti di euro, Fortuna in dadi, Sedicenti euro, Set di camice uguali per interpretare Hulk, 40 euro, Se ne abbiamo voglia, Ombrello a forma di ombrello, 15 euro, Lucida labrador, 2 euro e 56, Mario sott'olio, Meno euro, Smettila di provare a rimanere a casa, Prova a dirigerti al piccolo, Ci provo, Al piccolo le offerte piovano a catena, Solo se la cassiera se la sente, Spaghetti a forma di penne, Po di euro, Filo tira labbro, Più di 5 euro, Porta acqua, 7 euro e 7, Solo se avete i soldi, 10 euro, A soli 12 euro e 50, Che fortuna, Radio per non udenti, Ma è una tv, 1000 euro, Si chiama tv, Colori ad aglio, Ma dai, Non ho olio, Vabbè, Per quelli che non hanno più retonsiglia, Cosa indefinibile, 15 euro, Corcoglio in pillole, 22 euro, Asciuga Mario, 5 euro e 50, Ma basta, Smettila di escoriarti a casa, Dirigiti al piccolo, Senz'altro,